Mi chiamo Emma Tracanella, sono stata definita come Tecnomamma. In realtà sono una consulente informatica che si occupa anche di organizzare le cene delle donne appassionate di tecnologia. Nel mondo della tecnologia è difficile che ci siano più donne presenti in un settore molto tecnico e quindi è molto difficile incontrare persone del tuo sesso che hanno i tuoi stessi problemi. E così in Inghilterra, 12 anni fa, è stato inventato questo format che è stato importato in Italia. L'iPad è il mio oggetto del desiderio di questo momento e non lo posseggo. Sono molto terrorizzata di quanto tempo mi farebbe perdere perché ha tutta una parte ludica, giochi, connettività, social network molto importante. saprei già che mi trascinerebbe in qualunque ora del giorno e della notte in attività non proprio adatte a risparmiare tempo e denaro. Allo stesso tempo, professionalmente, mi sarebbe molto utile. Mi consentirebbe di essere sempre connessa in una vita un po' frenetica come quella di Milano in cui bisogna gestire bambini, casa, lavoro, ti consente sicuramente di ottimizzare tutto quello che è la tua vita normale. All'interno del Wipad Team sarò sicuramente la persona che terrà tutti con i piedi per terra, contando sulla mia formazione e col mio essere un po' ingegnere, un po' meno creativa di tutte le persone che mi circondano. Le persone che ci seguiranno sul progetto potranno sicuramente essere fondamentali per la riuscita del progetto, ci potranno dare consigli e idee utili e valide. Speriamo solo che siano le persone migliori, le più intelligenti che navigano su internet. Speriamo se Grazie per la visione!